Il Napoli non cambierà a casa. Il Maradona è destinato a rimanere ancora allo stadio degli Azzurri. De Laurentiis farà di tutto per conservare la storica dimora della squadra della città. Risolutivo è stato l'incontro avvenuto nelle scorse settimane tra il presidente del Napoli, il sindaco Manfredi e tutte le parti interessate per trovare un accordo per il passaggio dell'impianto dal comune al club. Il programma sembra potersi sviluppare a tappe. Il primo step potrebbe essere la concessione dello stadio Maradona al Napoli con accordo di 50 anni. Poi si potrebbe passare alla cessione definitiva dell'impianto. L'operazione avrebbe per De Laurentiis un costo di circa 30 milioni di euro. Si discute sui tempi che devono essere brevi per poter anche iniziare a pensare al restyling dello stadio. Anche perché ci sono tutti i paletti imposti dalla UEFA per quel che riguarda gli adempimenti necessari da effettuare in vista dell'europeo del 2032. Il progetto originale prevede l'eliminazione della pista di atletica che attualmente divide gli spalti dal terreno di gioco. Per De Laurentiis il modello da prendere in considerazione è quello inglese. Al netto dell'eliminazione della pista di atletica poi ci sarebbe tutto quello che ha a che fare con il lato commerciale. Negozi, ristoranti ma non solo. Sfruttarlo non solo per le gare del Napoli. Il presidente del club azzurro aveva studiato altre ipotesi come costruire il nuovo impianto ad Afragola, Pozzuoli, anche Castellamare di Sabbia. Tutte ipotesi poi scartate per varie ragioni.